Avvocato, l'ordine degli avvocati che lei rappresenta ha ottenuto un primo risultato importante con una decisione del TAR a proposito di un bando che era stato emanato dal comune di Gela. Sì, abbiamo ottenuto questo risultato che ci è stato comunicato dal nostro avvocato ingaricato, l'avvocato Girolamo Rubino, il quale proprio eri mi comunicava che la TAR aveva accorto la sospensiva ritenendo che era abbastanza fondato, c'erano i profili del pericolo in Mimora e quindi come tale ha sospeso, rinviando al merito poi l'eventuale decisione finale anche in termini di spese e tutto. Che cosa prevedeva il bando e che cosa contestavate? Allora, il bando prevedeva la costituzione di tre avvocati, cosiddetta associazione di scopo, che si doveva occupare un po' di tutta quella che era il contenzioso del comune di Gela. Ora, da quello che noi abbiamo letto e che abbiamo sempre cercato, ma non fare polemiche, ma abbiamo dato anche la nostra disponibilità a collaborare con il comune per cercare che venga fatto un bando magari in maniera più corretta, secondo naturalmente il nostro punto di vista e quindi criticavamo che, per esempio, si doveva fare un'associazione di scopo che non è prevista nella nostra legge professionale. Poi vieno dei profili che facevano più prendere per una dipendenza e non violando quelli che sono i principi dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocatura. E quindi poi ancora quella discriminazione, che molti non potevano partecipare, chi fa politico, chi aveva assunto delle cariche pubbliche. Avvocato, dopo questa decisione del TAR c'è ancora disponibilità al dialogo con l'amministrazione comunale? Ma guardi, noi come Foro Gelese, che io rappresento, siamo stati sempre nella disponibilità di... Tanto è vero, quando in un primo momento il sindaco, dopo il nostro ricorso al TAR, l'aveva sospeso, noi ci eravamo fermati. Questa è stata interpretata dall'amministrazione come un abbandono, cosa che invece non era così. Tanto è vero che quando il sindaco ha continuato a portare avanti e quindi ha dato esecuzione al bando, il nostro legale, ripeto l'avvocato Rubino, l'ha imbugnato con i motivi aggiunti, chiedendo anche la sospensiva, sospensiva che oggi abbiamo ottenuto.